Si chiama Transumanze culturali fra due parchi ed è un progetto a cui prendono parte oltre 40 comuni realizzato al fine di pianificare interventi per valorizzare il territorio di diversi comuni ma è più in generale di un'intera area da un punto di vista culturale, economico, turistico e sociale. L'area, come suggerisce proprio il titolo del progetto, è quella compresa fra il Parco Nazionale del Pollino e quello della Sila, ovviamente in provincia di Cosenza. L'idea progettuale che vede coinvolti, come detto, circa 40 comuni con Castrovilla-Ricapofila si articolerà in diversi interventi e sarà presentata al Ministero per i beni culturali in relazione al bando Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale. È un progetto che va a riqualificare e valorizzare soprattutto le risorse culturali locali mettendole in rete e creando questa strategia d'area che fonde non solo i due parchi nazionali ma addirittura tre comuni della catena costiera e ben dieci riserve naturali proprio per creare questo ecosistema e quindi che rilanci il tessuto socio-economico locale. Questa è la finalità ultima del progetto in sintonia con quelle che sono le richieste del Ministero ai beni culturali. L'innovazione qual è? Di rompere con gli istemi del passato che hanno puntato sinora sempre tutto sulle aree costiere e di concentrare maggiormente l'attenzione sulle aree interne le cui peculiarità forse sono uguali a quelle della costa però conservano le aree interne quella che è l'identità culturale regionale. Grazie. 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 Grazie.